Buongiorno a tutte e a tutti, 7.05 giovedì 25 gennaio, già Giove, siamo a giovedì, ormai siamo in discesa verso il weekend. Questo è Good Morning Milano, io sono Fabio Ranfi e ci state ascoltando dalle frequenze di Crystal Radio FM 96.2 DAB Plus e poi lo sapete anche l'app di iOS Android, il sito internet, ma potete anche vederci in questo momento in diretta anche su Milano All News. Sito, YouTube, Twitch, Facebook, un po' ovunque potete vederci oppure ascoltarci appunto in radio e rivederci e riascoltarci anche in podcast. Sì, siamo anche un video podcast su Spotify, ma anche solo audio ovviamente, ma anche su Apple Podcast e anche poi sul nostro sito che poi vi daremo tutte le coordinate anche del sito e sta arrivando il sito di Good Morning Milano, vi do questa anticipazione. Sta arrivando, ma ve lo darò con calma anche perché poi ci sono le varie iniziative che dovremmo raccontarvi come ad esempio il Good Morning con te, cioè la possibilità di venire qui in studio e passare un'oretta insieme a me qua in studio. Siamo in radio, siamo qui per la musica, ma anche per raccontarvi un po' la città e anche per ascoltare la città. Sì, possiamo ascoltarvi al 331-7853-555. Come? Con Whatsapp, audio, foto, video, messaggi, quello che volete, condividete la vostra mattinata insieme a noi, perché noi siamo qua fino alle 9 per darvi la buona sveglia, per svegliarvi, per tirarvi giù dal letto. E nero in maneskin qui su Cristian Radio alle 7 e 10 di oggi, giovedì 25 gennaio. Allora, oggi giovedì 25 gennaio, siamo a 24 ore più o meno dall'inizio dello sciopero dei mezzi di ieri, ieri sciopero nazionale del trasporto pubblico. Beh, è stata una giornata campale per Milano e zone dimitrofe. Tutto è iniziato intorno alle 8 e 45, anzi, primo errore che anche noi abbiamo commesso, nel senso che abbiamo dato per scontato che tutte le sigle e tutte le aziende di trasporto scioperasse uno stesso orario, non era così, perché ad esempio Movibus ha iniziato lo sciopero prima, già alle 8 e mezza, e quindi tante le zone periferiche di Milano e i comuni intorno alla città di Milano che hanno avuto difficoltà ad arrivare in città. Poi, alle 8 e 45, è iniziato lo sciopero di ATM fino alle 15. Nella mattinata, in realtà, è rimasta solo chiusa delle tratte, dei tratti dell'M2, ma per il resto funzionava tutto quanto. Il problema, o meglio il delirio, diciamo, è arrivato alle 18, o meglio. Già la mattina, perché ovviamente la gente spaventata dallo sciopero, indetto da due sigle, in realtà non gigantesche, ma del sindacato di base, che, messe insieme, in realtà hanno tirato su un bel po' di adesione, o meglio, o sicuramente adesioni strategiche, per cui hanno dato alquanto filo da torcere all'azienda per riuscire a gestire la situazione. Cosa succede quindi? Che alle 15 ricomincia tutto quanto fino alle 18 normalmente, ma alle 18 appunto inizia la seconda trancia, è iniziata ieri alle 18 la seconda trancia dello sciopero, che ha portato alla completa chiusura della M1, tutta, tutta la M1, da nord a sud a ovest completamente chiusa, sia il ramo Bisceglie, sia il ramo di Roffiera, ma soprattutto la M2, che fino a un certo punto era chiusa solo per un tratto, dalle 19.40 è stata chiusa completamente. Ad aggiungersi anche la M5, che era chiusa nel tratto che andava da San Siro Stadio a Tre Torri, oltre a un tratto un po' complicato, perché se mi chiudi il gesto a San Siro va bene, c'è il 16 che va a parare il colpo, ma da Tre Torri a San Siro è anche complicato riuscire poi a gestire quella parte di linea lì, non era così semplice, bisognava inventarsi qualche stratagemma per riuscire ad arrivare almeno fino a Piazzale Lotto o giù di lì per riuscire poi a capire come giostrarsi. Sta di fatto che appunto ieri, giornata delirante, circomalazione completamente bloccata, ma già nelle prime ore del pomeriggio, nonostante alle 3 poi sono ripartiti i mezzi, comunque già nelle prime ore del pomeriggio era tutto bloccato, centone all'una e mezza, due, tutta la circomalazione bloccata, e poi peggio che andare di notte. Oltretutto ieri sera a un certo punto c'è stato anche un tratto da tangenziale ovest chiuso per causa di un piccolo incidente, però poi è stato tutto riaperto, ma anche quello si va ad aggiungere, insomma era veramente complicato muoversi in città ieri. Tutto questo lo ritrovate anche nelle cronache oggi sui giornali, sia Repubblica che Corriere Milano dedicano degli approfondimenti, o meglio degli articoli, a quello che è successo ieri, una cronaca di quello che è successo ieri. Tre comunque sono le parole d'ordine dei sindacati per il motivo dello sciopero appunto di ieri, che erano salario, sicurezza e diritti. Le tre parole d'ordine dei sindacati di base che ieri hanno paralizzato con il loro sciopero la nostra città. E quindi adesso vedremo come e quando ci sarà il prossimo sciopero. No, speriamo di noi. Intanto andiamo a vedere com'è la situazione invece oggi del traffico in una giornata più o meno normale. Luce verde. Sfere basta, le 7 e 18 minuti. Buongiorno a tutti ancora. Good morning Milano. Il 25 gennaio è una data importante per Milano. Ah no, è importante anche nel mondo. Anzi, pensate, nel 1533, 491 anni fa, pensa, 1533, Enrico VIII sposa Anna Bolena. Vabbè, così volevo darvi questa notizia, so che è completamente inutile, però potreste vendervela oggi, no, così se parlate di matrimonio e divorzi potete dire questo. Ah ma sai che oggi Enrico VIII sposò Anna Bolena? Ma soprattutto perché è importante per Milano? Perché nel 1939, il 25 gennaio, nasce Giorgio Gabber. Eh sì, oggi è nato il signor G. Il signor G è nato proprio oggi, 25 gennaio, classe appunto 1939. 1939, beh, insomma, una persona che è un simbolo proprio della nostra città, un simbolo della nostra cultura, della nostra musica. Ancora oggi, insomma, il duo Gab e Riannaci è qualcosa di quasi indissolubile. Sono un po' i nostri mogol battistici, pensate, un pochino. Anzi, forse ancora di più, perché da una parte lì c'era mogol battisti, era uno il parogliere, uno il musichiere, uno il parogliere, uno l'interprete, diciamo, no? Anche se comunque entrambi mettevano molto poi alle realizzazioni. Qui erano veramente due menti che avrebbero potuto odiarsi alla follia, perché veramente super creativi e scontrarsi ad ogni dove. Invece, anzi, dai loro scontri, dal loro incontrarsi, nasceva il grande genio, che è poi quello che c'è dietro tantissime canzoni, appunto, di Gaber, tantissime canzoni di Riannaci, insomma, hanno influenzato una serie lunghissima poi di altri interpreti. Ovviamente, per esempio, non possiamo non ricordare anche Cocchi e Renato e tanti altri che, appunto, ricordate che il signor G, Giorgio Gaber, inizia ruotando intorno al clan di Adriano Celentano. L'idea che avevano Gaber e Riannaci era quella prima di essere un po' dei rockabili, di fare un po' di rock'n'roll, ma poi, innamorati del jazz, pensano di fare un complesso jazz, un gruppettino jazz. Ovviamente, col jazz non si andava da nessuna parte. Forse perché non c'era ancora il Blue Note, non so. Chissà perché, no. Sta di fatto che, comunque, non si va molto in giro e, anzi, la gente, quando li vede, sorride, incomincia a divertirsi, anche se loro volevano fare le cose fatte bene e seriamente. Capiscono che quella può essere una chiave, invece, per raccontare e per raccontare anche il mondo, la società, per criticarla, anche, insomma, con quel genio e un po' di pizzico di follia che può farti distaccare dal mondo, vederlo da un'altra prospettiva, prenderlo in giro, ma poi farti anche ragionare su quanto siamo folli in questo immenso tritacarme e frullatore in cui siamo. Ovviamente, se volete sapere di più su Giorgio Gaber, io, noi e Gaber. RaiPlay, un bellissimo documentario a firma di Riccardo Milani, aperta parentesi, marito di Paola Cortellesi, quindi grandissimo anno per la famiglia Cortellesi-Milano, questo che è appena passato nel 2023, io, noi e Gaber, un capolavoro, veramente, andate a vederlo su RaiPlay. Se volete goderne ancora di più, questa sera, pensate, è, non credo per caso, in programmazione anche al Cinecittà a Rò. Se volete andare all'auditorium di Rò, in via Filippo Meda, c'è la proiezione di Io, Noi e Gaber. Date un'occhiata al sito per capire gli orari. Io, forse in voi, un giretto ce lo farei, perché è davvero, davvero, davvero interessante. E quindi, Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, una fetta di limone, prima in rapporta romana, adesso una fetta di limone, perché Giorgio Gaber? Perché è la doppia canzone di Giorgio Gaber, perché, ve l'ho detto prima, oggi nasceva appunto Giorgio Gaber, nel 1939, quindi tanti auguri appunto a Gaber, alla sua musica, alla sua storia, tutto quello che ci ha lasciato, ricordiamo poi, che ci ha lasciato appunto il primo gennaio del 2023, gennaio, mese in cui nasce il 25, nel mese in cui ci lascia il primo. Di gennaio, ma andiamo avanti, perché dobbiamo parlare invece dello stadio. Eh sì, ancora non di quello che forse verrà ristrutturato, cioè di quello che c'è, no, di quello che verrà, perché Milan, così Repubblica Milano, Milan, virgola, un passo avanti verso lo stadio a San Donato, due punti, primo atto della giunta per la variante urbanistica. Come è successo? Francesco Squeri, sindaco di San Donato, presenta alla stampa il primo atto formale della giunta, che aprirà ufficialmente il percorso per l'accordo di programma. San Donato ci sta cavalcando sta roba in una maniera pazzesca. Sono felici come Pasqua, secondo me, per questa cosa dello stadio a San Donato. Dovrei vedere se Francesco Squeri è milanista o interista, così ho un dubbio che sia milanista. Per il Milan, un passo in avanti verso l'Interland, mentre Milano gioca l'ultima carta per trattenere il club rosso-nero insieme all'Inter, stamattina, sindaco di San Donato, Francesco Squeri, presenterà alla stampa il primo atto formale della giunta, che aprirà ufficialmente il percorso per l'accordo di programma per la variante urbanistica. Quindi non hanno ancora fatto neanche la variante, hanno fatto il primo atto formale per la giunta, che apre il percorso per l'accordo di programma per la variante urbanistica. Quindi, chissà quanto ci vuole ancora. Appunto, tutto questo panigirico è necessario alla costruzione dell'impianto nell'area San Francesco, da San Siro a San Francesco. Chissà se lo chiameranno Stadio San Francesco a questo punto, dove era previsto, fino a pochi mesi fa, appunto, che sorgesse un'arena da 18.000 posti, quindi niente arena ma stadio. Adesso magari fate lo stesso, cioè fate un'arena stadio, così almeno nel Milano finalmente avrà un'arena, che io continuo a dirlo, abbiamo le arene troppo piccole, e questo porta uno a dover fare 42 concerti l'unito l'altro. Adesso non so quanti ne fanno i Club Dog, ne fanno 10 mi sembra, trappertutto si fanno il Faron d'Assago e poi anche San Siro, perché non gli abbastavano i posti. Cioè, te dimmi, vai. Comunque, oppure sappiamo Ligabù e Vasco, quando fanno 74 concerti uno dopo l'altro, fanno il doppio spettacolo anche di giorno, fanno uno al pomeriggio e uno alla sera, non sanno più come fare, perché hanno 10 milioni di persone che vogliono andare a vederli, e oltretutto, ricordiamo anche, adesso so che fa ridere questa cosa un po', però i concerti sono l'unico modo che hanno i cantanti per fare i soldi ormai, nel senso che dai dischi, ma forse la Pausini, i Ramazzotti, quelli che ne vengono veramente uno scatafascio, quelli che fai 8 milioni e 35 miliardi, triliardi di play su Spotify. Se no, non ci campi da quella roba lì, ma neanche, ma veramente, ma neanche, ieri, vabbè, dopo lo racconto. Comunque, anzi, lo racconto subito. Anna Castiglia, X Factor, non X Factor, bravissima artista catanese, ieri ha pubblicato cosa ha guadagnato negli ultimi sei mesi dalla CIAE. Per 47-45 mila ascolti, si è portata a casa la bellissima cifra di 14 euro. Pensate, può andare a mangiarsi una pizza e avere una Coca-Cola. Già se prende il dolce, secondo me, deve fare un po' di click su Spotify in più, se no, non ce la può fare. Quindi, auguriamo a Anna Castiglia una buona pizza e una buona Coca-Cola, ma capite che insomma davvero i concerti sono l'unica roba che è rimasta per gli artisti per riuscire a fare dei soldi. Adesso diciamo, so che ripeto, fa ridere pensando ai grandissimi artisti di cui parliamo, ma vendere la musica non è più quello che fa fare i soldi a questa gente. Quindi ci sta che vogliono fare 46 concerti l'uno dietro l'altro. Magari facciamo dei palazzetti un po' più grandi, così magari facciamo un po' meno concerti, ma con più gente. Cool and the Gang Celebration alle 7 e 38 minuti, Good Morning Milano, 331-78-53555. Il nostro numero di Whatsapp, come potete scriverci per raccontarci un po' quello che state facendo e darci anche un po' le coordinate della vostra giornata, progetti per la giornata, quali sono? Dove volete andare? Dove dovete andare o dove volete andare? Ditecelo, siamo qua. Siamo qua apposta fino alle ore 9 per accettare i vostri consigli anche su cosa fare in giornata. Magari, insomma, è giovedì, so che il giovedì sera si esce in tanti, c'è chi va a bere fuori, c'è chi va al calcetto, c'è chi va al padel. Io questa settimana salto, vado la settimana prossima. Questa settimana saltiamo, però vabbè, perché siamo troppo bravi. Siamo dei campioni e quindi ovviamente non dobbiamo, no, invece siamo così scarsi che dobbiamo metterci 15 giorni a riprenderci fisicamente dallo sforzo fatto. Torniamo invece sulla notizia che prendiamo da Milano Repubblica, da Repubblica Milano, perché ce ne aveva parlato anche martedì qua con noi Walter Cherubini, parlato di pane quotidiano, delle locazioni, di come funziona il sistema del Comune di Milano per assegnare i luoghi del Comune di Milano alle varie associazioni che operano nel settore. Oltretutto con delle regole che diamo per scontati, ma che secondo me sono davvero tutte da rivedere. Ad esempio, che il pane quotidiano riceva dal Comune un luogo e che di questo luogo il pane quotidiano debba pagare l'affitto, anche se fosse solo 5 euro, io lo trovo sconvolgente. Ripeto, lo trovo veramente assurdo perché il pane quotidiano fa qualcosa di molto utile alla città, sopperisce a un problema che se non ci fosse il pane quotidiano sarebbe in capo al Comune di Milano e sarebbero cavoli amari per il Comune di Milano, quindi dà una mano non solo alla collettività, non solo a chi va in coda agli oltre 2500 pasti al giorno che eroga solo nella sede di Via Le Monza, dà una grande mano a tutta la collettività e anche al Comune appunto, bene, deve anche pagare l'affitto. Ma c'è una cosa di più, paga un affitto basso, alto, non mi interessa neanche se è alto o basso. Ma viene chiesto, adesso il pane quotidiano ha chiesto di rinnovare il contratto perché è scaduto ormai da un paio d'anni e quindi deve essere rinnovato. Il Comune ha fatto una proposta di rinnovo per soli 8 anni. Oltretutto con tutti degli obblighi in realtà per il pane quotidiano di ristrutturazione della struttura in cui è a spese del pane quotidiano. Quindi allora io devo pagarmi la ristrutturazione, pagare un affitto e averlo solo per 8 anni che sono pochissimi per operazioni che poi insomma ci vogliono anni anche per recuperare tutti i soldi della ristrutturazione. Soldi che non arrivano ovviamente dai 2.500 pasti che vengono erogati al giorno ma da donatori, da gente che con il cuore in mano, con la Milano col cuore in mano aiuta il pane quotidiano. E allora mi viene da dire da una parte siamo qua a parlare della politica, della partecipazione, la grande città che fa tanto, il terzo settore, il non profit, le associazioni, il volontariato. dall'altra però abbiamo delle regole che non rendono possibile questa cosa o meglio la rendono molto difficile infatti il pane quotidiano e leggiamo da Repubblica il pane quotidiano l'appello dell'associazione al comune per la sede di Viale Monza affitto più lungo o resterà il degrado? Anche perché sappiamo benissimo abbiamo avuto negli anni scorsi più volte siamo entrati su questo tema soprattutto sulla sede di Viale Monza ricordiamo che c'è in un'altra sede di Pane Quotidiano che è in Viale Toscana attaccata proprio al campus della Bocconi ricordiamo che però qua di Viale Monza era stata più volte presa di mira anche da alcuni esponenti della destra cittadina perché portava degrado perché la gente si faceva il bagno il bidet la doccia nelle fontanelle nella fontanella che c'era davanti e lo stesso Pane Quotidiano diceva ma dateci una mano a rendere migliore questo posto in modo che appunto non si porti un disagio alla città sta di fatto che appunto questo è quanto affitto più lungo oppure resterà al degrado questo è quello che chiede il Pane Quotidiano Desert Rose Sting insieme a C'è Mami un grande pezzo negli anni 90 che siamo qui a riscoltare su Cristal Radio Good Morning Milano 331 7853555 è arrivato un Whatsapp buongiorno Fabio buongiorno Cristallini è bello svegliarsi con Gaber grazie mille ad Alberto e al tuo messaggio beh sì lo sapete insomma oggi ve l'ho detto già un paio di volte è il compleanno di Giorgio Gaber e quindi non potevamo che non mettere due suoi pezzi importantissimi vi ricordo ancora che io noi e Gaber il documentario di sulla vita sulle opere di Giorgio Gaber lo potete vedere su Rayplay oppure questa sera se potete andare all'auditorium dirò c'è quindi volendo potete andarvelo a vedere anche anche lì ancora sul pane quotidiano in realtà l'appello appunto viene fatto dall'associazione come dicevamo perché richiede un affitto più lungo di quello proposto solo otto anni dicono se noi cosa dice l'associazione dice noi distribuiamo 2500 pasti al giorno in un ambiente inadeguato lo dice anche la OLLU stessa il comune vuole concedercelo solo per otto anni ma così addio donatori cioè il concetto è se voi volete solo per otto anni i donatori non ci danno i soldi per poterlo mettere in piedi ma io dico di più continuo a ripeterlo il fatto che il comune chieda un affitto anche simbolico ripeto anche un euro a delle associazioni come il panne quotidiano che fanno un'opera importantissima sul territorio la trovo assurda vivrò nel paese di Alice da Meraviglia e non mi interessa c'è il danno erariale pensate non riesco neanche a dirlo non mi interessa cambiate quelle dannate regole questo è quello che dico io il panne quotidiano non lo fa per arricchirsi ci saranno sicuramente gente che guadagna dal loro lavoro fatto al panne quotidiano perché ci saranno direttori ci saranno degli operatori dei professionisti ci saranno quelli che con i furgoni vanno avanti e indietro ma cosa vuol dire che allora tutto deve essere fatto a babbo morto come in questi casi no allora ricordiamoci sempre e poi quanti quanti volontari ci sono lì dentro che non percepiscono mezzo euro attenzione anche a questo cioè quindi davvero che in tutto questo giro i donatori chiunque di noi dia dei soldi al panne quotidiano io l'idea che devo darglieli per pagare l'affitto al comune mi fa girare in una maniera ce li do perché devo comprare il cibo da dare a chi ne ha bisogno 2500 pasti solo nella sede di Viale Monza quindi insomma ditemi voi se non c'è un po' da arrabbiarsi o rimanere un po' così comunque dai andiamo avanti con la musica oggi grandi pezzi e complimenti all'ufficio programmazione di Crystal Radio senti questa qua che arriva adesso non ve la dico neanche perché c'è uno swing che è tutta roba sua Dire Straits Sultans of Swing 7 e 54 minuti stiamo per arrivare alla nostra pausa dell'ora dove ascolteremo tutti insieme il giornale radio e poi anche il Crystal History e poi torneremo qua per insomma così raccontare ancora quello che c'è in città e poi oggi è giovedì e quindi poi c'è Tamara Malleo che ci racconterà l'abitudine del teatro andremo a vedere dove potremo andare magari in teatro una di queste serie della prossima settimana da qui a giovedì prossimo che cosa potremo fare cosa potremo fare nel weekend a teatro ce lo dice Tamara Malleo appunto alle 8 e 5 8 e 6 saremo qua a fare una bella chiacchierata insieme a Tamara non prima appunto di ascoltare il giornale radio e non prima di ascoltare una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ma in una versione un po' particolare abbiamo voluto caricarvi una versione live così che pensiate di essere magari lì anche voi a cantare in uno stadio oppure nel famoso palazzetto di cui parlavamo prima che ancora non c'è ma chissà magari un giorno arriverà in uno stadio chissà quale con un San Siro ristrutturato un nuovo stadio il San Francesco di San Donato il nuovo stadio del Milan chissà ho deciso che basta adesso lo chiamo San Francesco perché dicono che è nella zona San Francesco quindi lo chiamo il San Francesco di San Donato San Siro versus San Francesco dove lo canterete non lo so ma sicuramente se lui inizierà a cantare questa canzone voi la canterete con lui sapete chi è? lui è Cesare Cremonini con Special ed era Gino Paoli con Sapore di Sale il Crystal History siamo andati ben dietro è 1964 pensate ma è questo il Crystal History portarci dentro una storia e ricordare la grande musica italiana e non in questo caso è un pezzo che insomma io sfido chiunque a non averlo cantato nel senso che dai anche se siete andati l'altro ieri Sapore di Sale lo sapete c'è poco da fare se invece volete una nuova abitudine che magari volete aggiungere o magari ce l'avete già e quindi complimenti per l'abitudine che avete potete seguire i consigli di Tamara Malleo per l'abitudine del teatro buongiorno Tamara buongiorno Fabio buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano e buongiorno anche a Viola che ti affianca dal punto di vista tecnico che così salutiamo tutti ma non solo tecnico sai quanto mi dà questa trasmissione anche dal punto di vista intellettuale molto più di quello che posso dare io quindi no Viola la produzione di Viola è fondamentale questa trasmissione producete tutti insieme che è sempre una cosa bella lavorare e posso dirti Tamara se ne sono accorti nei giorni scorsi perché per due giorni io non l'ho avuta ed è successo di tutto qui in onda quindi davvero per fortuna che è tornata Viola per fortuna che è tornata allora tre consigli di teatrali e mi sono accorta che i miei temi sono sempre un po' impegnativi anche se siamo diciamo così prima mattina però però il teatro ci porta anche a questo a riflettere a portarci in temi complessi che il teatro cerca di diciamo così sbrogliare la matassa e quindi portarci a delle riflessioni complesse però all'interno di un mondo che ci permette di farle quelle riflessioni allora andiamo a teatro linguaggi creativi che già la settimana scorsa avevamo trattato e quindi siamo in zona Barona quindi Romano metropolitana verde perché c'è la nuova produzione del teatro linguaggio creativi guidata da Simona Tagli e da Simona Migliori e Paolo Trotti una bellezza piccola piccola in scena ci sono Maria Alice Tavaglini e Diego Polgualtieri con Simona Migliori e Michele Costabile con la regia di Paolo Trotti di cosa si parla? al centro il tema è molto complesso perché al centro ci sono un uomo e una donna un artista e il suo amante che si ritrovano dopo 20 anni e la donna sta per lanciarsi nel vuoto deve compiere la sua ultima performance e l'uomo la guarda e non le crede allora c'è tutto il tema della complessità del gesto artistico di cosa significa essere artista quale soglie bisogna oltrepassare quali solitudini attraversare per portare appunto l'arte su un palco ma riuscirla anche a far arrivare al pubblico e c'è un tema importante all'interno di questo spettacolo che è la bellezza perché in questo spettacolo si sviluppa l'idea della bellezza che è un'esperienza che ci sfida a trovare un senso nel suo oggetto perché noi diamo sempre il giudizio di bellezza che è un giudizio estetico ma in realtà dentro il giudizio di bellezza dovrebbe essere diciamo così staccato dall'idea diciamo così estetica inserita all'interno di un sistema di un ordine molto più complesso che riguarda emozioni desideri piacere quindi in una complessità che può essere spiegata appunto attraverso il teatro quindi questo spettacolo ci può portare attraverso la sua diciamo così il suo racconto la sua storia in una riflessione in una riflessione importante sulla bellezza e quindi una bellezza piccola piccola sarà in scena venerdì quindi domani sabato e domenica al teatro linguaggio creativi via Villoresi appunto zona barona quindi la terravera interessante perché poi qualche settimana fa abbiamo parlato appunto dello stesso location quanta quanta roba danno cioè veramente c'è tantissimo loro fanno produzioni tantissime che rimangono due o tre giorni di solito delle fine settimana però sono diciamo così varie e soprattutto sviluppano il contesto sviluppano il tema della drammaturgia contemporanea originale e dando appunto spazio a nuove compagnie ma anche alle loro produzioni in questo caso è una loro menù menù bello ricco menù bello ricco bene 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 ci spostiamo in un altro teatro sempre diciamo così un po' piccolo inteso come dimensione che è campo teatrale che si trova in zona alambrate e in questo caso anche loro accolgono piccole compagnie compagnie di giovani in questo caso sono molto giovani perché sono da qualche anno usciti dalla scuola del teatro Paolo Grassi e quindi sono veramente ragazzi che si stanno affacciando nel mondo del teatro il collettivo Colstomare con sarebbe una grande idea sono già in scena a campo teatrale rimarranno fino a domenica e qua il tema centrale è il tema della televisione che si unisce in qualche modo al tema della vita perché al centro appunto c'è la televisione con la sua mercificazione di qualsiasi cosa per soddisfare il desiderio e la propria ambizione e però diciamo così la televisione viene inserita all'interno di un episodio familiare molto particolare perché due fratelli si ritrovano davanti alla barra della madre e quindi diciamo che un fatto privato e molto personale diventa un fatto mediatico e come accade come vediamo che accade la televisione porta ad una spettacolarizzazione di sentimenti di emozioni di eventi e quindi un evento molto privato e molto personale come il lutto può essere portato diciamo così in un contesto molto più ampio e quindi c'è una proiezione in cui una bara diventa il centro di una diretta streaming il camerino di uno studio televisivo l'anticamera di scontro e ingresso all'interno di una diretta televisiva quindi è vero che sembra quasi un po' forte diciamo così come riferimento perché chiaramente il lutto è un evento che si vive in maniera molto personale ma in questo caso esasperando la situazione si può arrivare a riflettere e a pensare a quanto la televisione sia invece dentro la nostra vita portandoci a spettacolarizzare qualsiasi cosa anche un lutto ecco allora ti rubo solo un secondo Tamara perché sul tema nel senso della televisione ma in realtà di come appunto è centrale nella vita di tutti noi ormai che può essere anche riportato sul web e tutto quello che è appunto la comunicazione vi consiglio un libro così voglio uscire un attimo dal mio ruolo oggi è questo che fa il teatro ci porta a questo infatti il libro si chiama Fiona di Mauro Kovacic del 2005 non è nuovo è veramente interessante è uno dei libri che mi ha tenuto più attaccato di tutti il contesto è quello televisivo in realtà parla poi di tutt'altro ma parla anche di come quel mondo lì appunto porta chi ci lavora dentro chi ci vive dentro chi lo vede da fuori insomma a comportarsi in certe maniere appunto quando c'è quando non c'è la televisione non so ma se volete Fiona si chiama Fiona Mauro Kovacic no ma devo dirti che a questo diciamo così in un contesto molto diverso ma sempre di televisione parla anche acido solforico di Amelino Tomb dove si parla anche qua delle esasperazioni di quello che avviene all'interno di un contesto televisivo passami il termine tra virgolette tipo grande fratello e quindi cosa porta a fare un contesto del genere cosa sei disposto a fare per arrivare ad essere il vincitore all'interno di un sistema televisivo quindi è molto interessante ma il teatro fa questo apre tante finestre e noi dobbiamo continuare ad aprirle per chiudere volevo soltanto dire appunto scritto e diretto da Marco Trotta con Michele Marullo ed Edoardo Spina sarebbe una grande idea collettivo costumer teatro campo teatrale quindi anche questo e per chiudere perché so che insomma lo conosci e perché comunque secondo me vale la pena e anche se io non sono per le grandi ricorrenze comunque sabato e il 27 gennaio quindi è il giorno della memoria ma in questo caso stiamo parlando del teatro della cooperativa che è un teatro molto votato diciamo così alla memoria non soltanto in questo periodo ma in generale per la sua programmazione e per i suoi anni spesi in questo campo e quindi Renato Sarti è l'anima del teatro della cooperativa ed è in scena in questa settimana fino a domenica con in me ci amava per nome 44.787 si parla di un di un posto che io devo dire la verità non conoscevo di una situazione che io non conoscevo storicamente la saliera di San Sabba giusto? Esatto esatto la risiera di San Sabba che è l'unico lager nazista in Italia momento di forno crematorio ed è appunto Renato Sarti ha raccolto le testimonianze di ex deportati basandosi sul lavoro di Marco Kotlovich e Silvia e Silva Bon per l'archivio di Trieste raccogliendo queste testimonianze attraverso questi due storici Renato Sarti ha voluto portare insieme in questo caso a Valentina Picello che è un'attrice strepitosa meravigliosa le voci di coloro che hanno vissuto questo questo dramma e lo fa come sempre in maniera molto onesta in maniera molto diretta e senza cercare l'esasperazione emotiva ma volendo portare la storia a disposizione di chi quella storia non la conosce perché questa 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 storia in realtà nelle scuole non si studia diciamo se non per una diciamo così per una ricerca personale non si conosce e quindi Renato Sarti vuole in qualche modo attraverso il suo teatro portare la possibilità di far sì che queste storie non scompaiano che possano continuare a vivere che possano continuare a farci sentire che c'è un momento che non può essere a cui non si può tornare e in realtà in questo momento storico diciamo che certi rigurgiti come si dice sembra esatto quindi secondo me Renato Sarti fa un lavoro difficile molto complesso ma in questo momento assolutamente necessario stiamo parlando del teatro della cooperativa a zona di guarda Tamara lo consiglio anche perché la storia colpisce anche nel vivo Renato Sarti perché Renato è friulano è di quelle zone lì parla di quelle zone lì parla la lingua che si parla in quelle zone lì quindi davvero non c'è forse persona migliore di Renato Sarti per portare in scena il Ciamama per nome oltretutto lui essendo di quella zone lì ha anche conosciuto proprio di persona alcuni dei sopravvissuti alla risiera di San Sabba e come dicevi tu poi ha fatto questo ottimo lavoro insieme a questi due storici che proprio sono andati con l'anternino a cercare tutte le varie pagine e risvolti nelle pagine della storia quindi davvero molto molto interessante invito chi ci sta ascoltando in questo momento a farsi un giro su Instagram di Milano News perché c'è un'intervista fatta pochissimi giorni fa dalla nostra Gaia Folloni proprio a Renato per parlare di questo di questo spettacolo sullo stesso tema ti do un'anticipazione che mi ha dato Renato Sarti fuori onda ma si può dire nel senso niente di trascendentale a breve febbraio-marzo adesso non sapeva ancora bene neanche lui quando metterlo in scena verrà messo in scena sempre da lui e dalla sua compagnia invece un altro spettacolo molto interessante il titolo è difficilissimo perché è in tedesco ma per gli amici per quelli che conoscono T4 viene chiamato di Paolini anche quello molto interessante parla di un progetto appunto che i nazisti misero in atto ben prima dell'inizio della guerra parliamo degli anni 39 giù di lì anzi scusate è 37 38 e anche in realtà in Italia ci fu una piccola appendice di quel progetto un progetto di sterminio bruttissimo una pagina davvero complicata della storia che però con il progetto T4 appunto i nazisti portavano avanti e che con lo spettacolo intitolato T4 Paolini ha portato in scena e verrà messo in scena alla cooperativa al tratto della cooperativa da Renato Sarti invece volevo darti questa anticipazione mi sembra dalla fine di febbraio qualcosa del genere bravissima dal 20 febbraio al 3 marzo ah ok perfetto mi ha dato il fatto che Renato Sarti continua il suo lavoro legato alla memoria non per una data specifica quindi per un evento che ritorna tutti gli anni ma in realtà sempre perché lui è molto attento ai temi peraltro appunto in tutta la sua stagione nelle sue stagioni la cooperativa è sempre molto presente nel tema della memoria quindi è un filo conduttore di quel teatro diciamo ci sono vari fili il territorio spesso volentieri la cooperativa racconta molto bene le storie di Milano le storie del territorio le storie oppure un altro filone che vedono spesso volentieri le storie della gente la storia del popolo la storia dell'agricoltura spesso volentieri ho visto spettacoli che raccontano questo e poi ovviamente quello della memoria che è un tema che porta molto molto avanti Renato Sarti del suo teatro Tamara che bello parlarti una mattina così comunque questo lo dici tu lo dico io lo sottoscrivo e lo risottoscriverò per sempre ma non so se i tuoi telespettatori e i tuoi telespettatori ci sono d'accordo ma condividiamo lo stesso questo spazio sicuramente sono d'accordo e se non lo siete non avete capito niente adesso ve lo dico invece loro hanno molto capito perché bisogna avere un ascolto critico io voglio che le prossime settimane arrivino dei messaggi che mi dicano ma tu non parli mai di questo non parli mai di questo teatro vuoi una critica vuoi una critica la posso fare se vuoi vuoi una critica hai detto che via Villoresi è in Barona se ti sentono quelli di via Villoresi non ti dico cosa ti fanno no non è vero fuori Barona al di là della circolvallazione non è più Barona fino alla circolvallazione è Barona è zona Romolo zona Romolo si è fatto guerra per molto meno scusate allora Villoresi non è in Barona Tamara grazie mille a te ci sentiamo giovedì allora buona giornata e grazie mille e ci vediamo a teatro ci vediamo anche su Antenna 3 poi dove dov'è che sei ricordacelo vabbè cercatelo l'importante è che ti ascolti e ci ascolti io faccio parte di questo di questo viaggio la mattina con l'abitudine del teatro qui con noi va bene va bene grazie mille Tamara allora un abbraccio andiamo avanti con la musica Michael Jackson con Billie Jean quest'oggi l'ufficio programmazione davvero si è dato da fare non so cosa si combina forse anche loro così si sentono risvegliati dal fine gennaio dopo Sant'Antonio il falò la natura rinasce anche l'ufficio programmazione oggi si è fatto prendere complimenti grazie all'ufficio programmazione Michael Jackson Billie Jean e lo di affari spenti bentornati a Good Morning Milano 3317853555 questo è il nostro numero di Whatsapp grazie per i Whatsapp non sono arrivate le critiche per Tamara ma sono arrivati i complimenti Giulio scrive complimenti a Tamara mi sono segnato tutto andrò sicuramente a teatro grazie mille Giulio anche a Federica Federica c'è scritto anche lei al 3317853555 e ci dice il teatro deve diventare un'abitudine come dice Tamara io ci provo a portare anche i miei figli non sempre sono contenti ma poi alla fine ci sono sempre delle bellissime discussioni quindi bene grazie mille a Federica che insomma condivide con noi la sua passione per il teatro e insomma a volte è vero non è facile magari portare chi non è avvezzo a questo magari insomma ogni tanto però insomma parte la discussione ed è bello discutere poi di quello che si è visto che sia piaciuto o non piaciuto che vada oltre il bello non bello perché poi siamo abituati a dire mi piace non mi piace ormai viviamo spesso e volentieri la vita come fosse un po' un social non like o don't like invece non è solo mi piace non mi piace non mi piace perché mi piace perché non mi ha convinto perché mi ha convinto perché insomma può essere così oppure guarda ti dico non è il mio genere però posso capire perché possa piacere e dare una motivazione insomma tante cose così come anche la musica d'altra parte rimaniamo invece sulle notizie che leggiamo sui giornali di Milano perché andiamo a fare una cosa un po' storica in questo momento penso che parliamo della cripta per i caduti delle 5 giornate di Milano ovviamente lì in in piazza 5 giornate stranamente uno dei pochi monumenti fatti nella piazza giusta non so perché non so il monumento a Verdi è in piazza Bonarroti non in piazza Verdi ad esempio ed è piena Milano di queste cose qua cioè il monumento è fatto a una persona la piazza non si chiama come quella persona o quella cosa invece il monumento ai caduti delle 5 giornate di Milano è fatto in piazza 5 giornate almeno questo ma perché ne leggiamo perché parte un restauro e dal restauro verrà fuori anche la verità storica sul giallo dei resti che sono delle sepolture che ci sono lì al suo interno perché a causa della perdita dei documenti di archivio non è noto quali e quanti corpi siano stati esumati dalla cripta della Cagranda e dalla chiesa Santa Maria del Carmine e poi traslati all'interno della cripta del monumento lì di piazza 5 giornate molto interessante quello che verrà fatto nel senso che l'assessorato ai servizi civici con l'assessora Gaia Romani è riuscita a trovare i fondi e a partire con questa operazione di restauro della cripta in modo che venga anche firmata le infiltrazioni dell'acqua venga risistemata tutta la cripta e tutto il monumento monumento che risale alla fine del 1800 50 anni dopo le 5 giornate ricordiamo 1848 le giornate che concludono in che giorno concludono il 22 marzo quella zona di Milano effettivamente è fatta bene perché dove parte corso il 21 marzo in piazza 5 giornate quindi lì diciamo che è fatta bene nel senso per fortuna la toponomastica aiuta a comprendere la storia della città ma non si sa chi c'è dentro in quella cripta ci sono solo i rivoluzionari italiani partigiani italiani del 1848 ci sono anche parte delle truppe di Radetzky ci sono altri malati che venivano tumulati nell'ospedale della Cagranda che poi in realtà poi sono stati spostati lì non lo so e quindi cioè non lo so io non lo sa nessuno in realtà perché appunto non ci sono neanche gli archivi e quindi cosa si farà si farà un progetto di restauro ma nello stesso tempo si farà anche un progetto che andrà a studiare i resti conservati nella cripta la fase di questo progetto vedrà come responsabile Cristina Cattaneo docente di medicina legale della statale e fondatrice anche di Lavanoff che è un laboratorio di antropologia e odontologia forense appunto all'interno della statale vuol dire prendere analizzare coordinare tutta una situazione in cui bisognerà capire chi sono e cosa sono questi resti perché perché una cosa interessante che dice la dottoressa Cattaneo dice cercheremo cercheremo di far parlare gli abitanti di Milano di un'epoca lontana i resti delle persone raccontano storie diverse dai testi storici e ricostruire e restituire identità alle vittime significa tenere alta la memoria con la scienza queste sono le cose belle che ci piacciono in questa città cioè si fanno dei progetti davvero all'avanguardia il monumento come dicevo risale intorno alla fine del 1800 e nel 1895 furono traslati al suo interno tutti i caduti che vennero sul ponte in un primo momento presso il sepolcro dell'antica Cagranda e poi dopo nella chiesa di Santa Maria del Carmine nel 1895 questi resti furono traslati all'interno dell'obelisco costruito appunto come dicevamo intorno alla fine del 1800 dallo scultore Giuseppe Grandi questa è la notizia interessante secondo me nel senso che sarà interessante capire cosa ne verrà fuori e magari anche ridisegnare parte della storia riscrivere parte della storia dicendo dando dei nomi a queste donne a questi uomini che furono che si immolarono per la libertà della nostra città andiamo avanti con la musica invece adesso i giorni nostri NSYNC con i Justin Timberlake Better Place Justin Timberlake con i NSYNC 8.45 minuti ci avviciniamo verso la fine ma non prima di dare un'altra notizia che ha a che fare con l'università perché si ha parlato il direttore dell'università statale Franzini su un tema che in questi giorni stava un attimino accendendo l'interesse soprattutto verso la statale perché Franzini ha detto questo offrire servizi di qualità per chi è svantaggiato è tra i compiti di un ateneo mi piace questo svantaggiato poi sentiamo un attimino cose collegato perché cosa succede ormai l'università deve rendersi conto che vive in un contesto complesso dove devono essere garantiti servizi di qualità ancora più per gli studenti che risultano svantaggiati negli studi ed ecco perché svantaggiati in quel senso svantaggiati negli studi significa che cosa ad esempio si parla di neomamme e neopapà che ovviamente vengono svantaggiati nello studio dal fatto di dover stare dietro a un nuovo arrivo in famiglia e allora si sta pensando di togliere l'obbligo di frequenza in sede per le studentesse mamme e per i neopapà e anche di dare la possibilità di fare lezioni online appunto Franzini dice appunto che è fondamentale trovare ancora di più per gli studenti appunto che hanno un motivo così forte per non poter frequentare in maniera canonica l'università bisogna trovare delle soluzioni e quindi offrire servizi di qualità queste parole usa il rettore Franzini la proposta appunto è per adesso solo quella di cioè solo la proposta è quella di la possibilità estesa a genitori adottivi ed affidatari anche che due mesi oppure due mesi prima del parto e sei mesi dopo per le mamme quindi interessante questo tipo di iniziativa mi viene da dire Franzini ottimo bravissimo continuate così anzi continuate davvero così sono anche tante altre le fasce di università che forse andrebbero un attimino aiutati con servizi di qualità senza dimenticare poi il fatto che forse la qualità migliore che potremmo dare è quella di dare delle aule dove tutti possano entrare e non che spesso volentieri poi chi vuole andare in presenza si presenta e non riesce ad entrare nelle aule perché le aule sono strapiene oppure che devi andare da via noto a conservatorio attraversare la città e rischi di perdere inizio della lezione perché le lezioni sono troppo vicine quindi la qualità è anche in quello vedremo se con l'arrivo di nuovi campus con la riorganizzazione dell'università statale nella città di Milano questa cosa potrà essere sistemata io lo spero perché davvero io che poi spesso volentieri qui negli studi di Good Morning Milano abbiamo a che fare con tantissimi ragazze e ragazzi che studiano l'università insomma vediamo che i disagi sono spesso tanti non solo in primi si può ritrovare una casa a trovare dove vivere a Milano se sei fuori sede ma anche a volte proprio di gestione ordinaria delle lezioni che vengono spostate dalla parte dell'altra della città in varie sedi in orari incompatibili l'uno con l'altro poi vabbè sono proprio dei mezzi ma quello vabbè la statale non può anche fare quello forse però l'idea appunto di dare dei servizi di qualità ad esempio partendo in questo momento dai neopapai e dalle neomamme è molto molto interessante complimenti sempre al Rettore Franzini che ha ben presente quella famosa terza missione il fatto di riuscire a creare un'università che faccia qualcosa anche per il territorio in questo caso fa un giro un completo giro perché lo fa per la città e lo fa anche per i propri studenti quindi aiuta gli studenti ad avere veramente una bella esperienza universitaria che insomma è quello che si augurano e ci auguriamo per tutti coloro che vengono a studiare in questa città la musica su Crystal Radio lui è Noel Gallagher insieme alla High Flying Birds e questa è Pretty Boy 8 e 49 minuti Good Morning Milano 8 e 54 minuti giovedì 25 gennaio siamo arrivati alla fine di Good Morning Milano grazie a tutti per averci ascoltato questa è stata una bellissima mattina insieme a voi e grazie ancora a Tamara Malleo per i suoi consigli teatrali dopo di noi vai in onda invece senti questa con Ambrogio Curti i suoi consigli musicali le sue canzoni la musica la storia che c'è intorno ad artisti e a canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale tutto questo dopo il giornale radio di Crystal Radio con Ambrogio Curti con senti questa e voi invece se volete contattarci vi ricordo sempre il nostro numero di whatsapp 33178535555 e poi vi ricordo anche la Lega del Fantas Sanremo Crystal Radio fatevi la vostra squadra e iscrivetevi alla Lega del Fantas Sanremo di Crystal Radio domani ancora ospiti qui con noi ne parleremo poi domani sono ospiti di politica ma il territorio quindi parliamo di territorio domani abbiamo un consigliere municipale Davide Borghi e quindi parleremo di come la politica può aiutare i cittadini sul territorio appuntamento quindi a domani alle ore 7 in punto qui su Crystal Radio 96.2 FM da Plus con Good Morning Milano noi ci risentiamo anche su Spotify e su Milano All News ciao a tutti ciao